La manica dei capocci è tutto intorno e io lì al centro del discorso tutto vecchio ognuno che dice la sua sarò sincero ma a qualcuno a dire il vero neanche lo conosco se sa alla gente gli piace la chiacchierà e ognuno con la sua avventura la racconta te metti lì assenti tutti sì perché in finale se il discorso non finisce le palla un frasca è sempre una ventata da chiacchierà e credetemi io non so certo come chi ce casca chi sa la batta chi non ha fatto mai niente ma quanto c'ha da raccontare tutta questa gente c'è quello che dimostra interesse per discorso ma non ha mai capito nessuno poi c'è quello che sta lì buono buono che non dice mai niente fa sì con la capoccia sempre non manca il samudello e tu stai a sentire pure quello perché capisci che in fondo non è bene come un fratello tutte queste esperienze alla fine della giornata convergono in un'unica risata se l'avessi saputo ci sarei venuta prima ma sarò sincero ma qualcuno a dirvi neanche lo conosco te metti lì oh cazzo ma la staff a fare dieci volte mi sono rotto lì coglioni proprio che cazzo dai ricominciamo la capo mi sono picciato ci capisco più cazzo dai ne stanno a via pure la voce seconda la vuoi rifare? si vado? vabbè diamo il giac no che cazzo ragione scusa una manica di capoccia tutto intorno sta manica di capoccia sono diventata cinquemila dai forza famigli seri dai dai questo è bello ma quindi è stato messo ecco 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 Grazie a tutti